Cosa c'è di meglio di una pausa in un punto di ristoro dopo un'estenuante spesa o una fila alla cassa? Qui al centro commerciale Mongolfiera sicuramente abbiamo solo l'imbarazzo della scelta. Buongiorno innanzitutto, chi sei? Sono Marco Riondino, sono lo chef del Meva, ristorante bar, pizzeria. Cosa stai preparando in particolare oggi? Siamo preparando un primo piatto, strozza preti con crema di patate al curry con dei gamberetti saltati. In questo momento nello specifico che cosa stai facendo? In questo momento stiamo diluendo il tutto, già cotto prima con una crema fatta con patate e curry, cotto a 18 minuti a bassa temperatura e abbiamo amalgamato il tutto con dell'acqua e ci siamo aiutati ad incremosire il tutto. Quindi poi la pasta la andiamo a cuocere dentro oppure? Andiamo ad amalgamare dentro qui. No, la pasta prima la cuociamo in abbondante acqua salata per 7-6 minuti, pasta fresca, strozza preti faremo, andiamo ad eseguire. Questi sono gli strozza preti che andiamo a bollire. Quanto tempo di cottura, non la cottura totale, immagino? Pasta fresca, 6 minuti all'incirca. Abbiamo detto curry, quindi una spezza particolare. Sì, a me piace molto giocare con le spezie, equilibrare bene i sapori per dare un gusto un po' più forte. Vediamo bene quello che sta andando, quindi stiamo diluendo, come diceva giustamente il nostro chef, l'amalgama di patate e le stiamo cuocendo insieme ai gamberetti. I gamberetti, sì, per esaltare ancora di più il gusto sia della patata, del curry e con la dolcezza del gambero stesso. Ci allontaniamo per amalgamare il tutto, vediamo un po' le manovre del nostro chef, io mi allontano così non intralcio il suo lavoro. Ecco qui, scoliamo la pasta, come dicevamo, amalgamiamo il tutto, lo risaltiamo sul fuoco. Lo facciamo ammorbidire e lo facciamo incremosire, strengere. Ecco qui il momento dell'impiattamento, molto importante. Porzioni giuste. Facciamo tutto rigorosamente in diretta per vedere appunto come si fa. Non vogliamo disturbare lo chef in questo momento, anche perché so che i bordi devono essere rigorosamente puliti. Non sono macchiati per niente, sono perfetti. Eccolo qui, i nostri strozzapreti con crema di patate, curry e gamberetti sono pronti. Confermo, approvato, venite qui al Mi Va e assaggiatela. Strozzapreti con crema di patate, gamberetti e curry. Approvato.